Ciao, benvenuto e benvenuta in questo corso di tecnica avanzata per il cantante moderno. Questo è il corso veramente nel quale ho messo tutto quello che ho imparato in anni di studio per il canto e di pratica live, quindi come musicista dal vivo. Troverai veramente tantissimi argomenti per approfondire la tua tecnica del canto moderno, ma anche con riferimenti al canto classico. Quindi affronteremo la respirazione, la postura, le tecniche di appoggio e sostegno, lo strumento laringe in dettaglio, tutte le risonanze che puoi creare qui all'interno per trovare la tua voce personale. Andremo ad affrontare gli stili musicali più famosi, quali il twang, il cry, il belting, l'opera, lo speech. Troverai degli esempi per la voce di petto, voce di testa, come fare il passaggio fra i due registri, come fare il mix di questi due registri per unificarli e cantare con una voce il più possibile unica tra le tue note più basse e quelle più alte. Ti assicuro che in questo corso troverai molti argomenti spiegati in dettaglio. Non mi piace essere vago, non uso termini troppo accademici, ma cercherò di semplificarti i concetti spiegandosi veramente come puoi arrivare a fare il suono che stai cercando. Ti aspetto allora quindi in questo corso di canto. Ciao!